wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi quante novità anche oggi per quanto riguarda il futuro di fortnite vedremo cose nuove riguardanti sia le sfide di deadpool e le soluzioni ma anche un nuovo pacchetto di sfide per la gente pili la banana e molto molto altro volevo subito però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul video delle news ma insieme a quello che vi ho detto ragazzi parleremo anche di una roba un pochettino particolare dedicata a deadpool che sembrerebbe collegarsi con la storyline con quegli oggetti un po strani che ci sono intorno all'agenzia e anzi voglio approfittare per farvi la domandina di oggi lo sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi è proprio questa ma secondo te a che cosa servono quei cinque strani oggetti che sono sott'acqua intorno all'agenzia io un po di cose ve le ho fatte vedere sappiamo che sono collegati al doomsday event quindi all'evento di questa season al giorno del giudizio non si capisce bene se siano bunker se siano aspiratori secondo me visto che non lo sa ancora nessuno secondo me sono le basi per l'arma del doomsday quella sfera gigante che vi ho fatto vedere per me se qualcuno di voi invece ha qualche idea migliore mi raccomando non si dimentichi di scriverlo qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande il bando alle ciance andiamo subito a vedere una roba molto molto particolare allora data ovviamente la situazione che c'è in questo momento in tutto il mondo epic games e i suoi collaboratori non sono ovviamente al lavoro nella sede principale il che vorrebbe dire che molto probabilmente potrebbe esserci un ritardo nell'uscita della season 3 se andiamo a vedere ragazzi nei file interni di gioco sembrerebbe che sia stata aggiunta una patch che non era programmata la 12.50 sarebbe dovuto fermarsi tutto alla 12.40 e poi saremmo passati direttamente alla 13.00 perché se contate 10 season nel capitolo 1 e 3 nel capitolo 2 si va alla patch 13.00 la cosa è molto interessante perché invece come vi dicevo dei file di gioco se guardate dove punta la freccia sembrerebbe che sia stata estesa fino al 15.5.2020 il che vorrebbe appunto dire che molti hanno più tempo per poter farmare punti esperienza e sbloccare le versioni dorate delle skin ovviamente finché non ci sarà un comunicato ufficiale da parte di epic games teniamoci per buono la data del 29 aprile e andiamo avanti ragazzi perché guardate che cosa è stato trovato praticamente questo è Deadpool con la maschera da sub innanzitutto come vedete è ovviamente Deadpool senza maschera che ci verrà dato questo venerdì facendo delle spide fra poco ve le faccio vedere ma la cosa molto curiosa e voglio farvi vedere uno spezzone di video mentre ve lo commento è che qua andiamo a vedere tutte le animazioni di Deadpool presenti nella sua tana tra virgolette e come vedete oltre ad esserci un Deadpool che abbiamo già visto attaccato al tubo c'è dell'acqua che sta uscendo e che gli sta purtroppo inondando la sua la sua taverna appunto questo potrebbe voler dire appunto che il Deadpool con la maschera da sub avrebbe una un collegamento magari oltre che con il fatto che si sta distruggendo l'acqua anche con quelle cose presenti nel lago vicino all'agenzia potrebbero essere appunto acqua acqua non lo so non si sa ma ne sono abbastanza convinto e appunto parlando di sfide di Deadpool ragazzi eccole qua le sfide della settimana numero 8 quelle che appunto ci regaleranno la variante senza maschera dovremmo trovare l'unicorno gonfiabile di Deadpool e dovremmo ballare sul suo yacht per chi volesse sapere dov'è l'unicorno gonfiabile porca miseria vi ho fatto vedere un'altra cosa l'unicorno gonfiabile ve lo faccio vedere fra un secondo si trova esattamente guardate qua ragazzi nella parte posteriore del suo yacht lo troveremo qua o forse è già presente sinceramente non ho ancora guardato lo yacht mentre invece balla sullo yacht è semplicissimo ci atterrate sopra fate qualsiasi balletto e ovviamente completerete la missione ma quello che ci fa un pochettino stranire è questa immagine che sta girando da qualche ora sul web che mostra una nuova versione di Deadpool bianca allora ragazzi il leakers che ha pubblicato questa foto io non lo conosco quindi probabilmente potrebbe essere semplicemente un concept devo dire che se fosse così è davvero fatto bene molto molto carino a me piacerebbe averlo anche così a chi non piacerebbe ma in realtà anche il classico Deadpool rosso è veramente fatto super bene e andiamo avanti ragazzi perché c'è un altro blocco di sfide che è stato trovato e si chiama agent pilis spy license se vi ricordate bene martedì scorso o mercoledì non ricordo quando è arrivata la patch è arrivato anche un oggetto particolare ovvero sia la card per la licenza di spia della banana dell'agente della banana ed è proprio la cosa che ci verrà regalata ma non si sa bene se sia un adesivo o se sia qualcosa di interattivo si sa invece che ci saranno tre nuove sfide in arrivo la prima ci chiede di aprire le valvole di pressione nella camera di brutus la seconda ci chiede di knock it off the cat toy ok far cadere il giocattolo del gatto nella sezione di miascolo la terza ancora non la sappiamo per quanto riguarda la soluzione della prima ecco lì ragazzi i punti da aprire le valvole da aprire nella camera di brutus mentre invece se ci spostiamo nel nella camera di miascolo voi non lo state vedendo ma proprio qua sotto di me dove c'è il giocattolo per gatti troverete sopra un piccolo gatto giocattolo e potrete appunto interagire facendolo cadere completando così la seconda missione si otterrà questa card per l'agente bananita staremo a vedere poi a che cosa servirà perché ancora sinceramente non ne abbiamo idea e andiamo avanti ragazzi perché volevo concludere parlando ancora per quello che riguarda appunto la storyline principale di midas che sta un pochettino facendo casino e dappertutto per chi non l'avesse visto questa immagine che vi sto facendo vedere è praticamente è un fotogramma della camera segreta di midas e sotto di me c'è una fotografia con dentro un personaggio che è presente in game e si chiama the engineer si suppone sia appunto la fidanzata di midas ma in realtà non abbiamo ancora avuto modo di vederla pubblicamente in game la cosa molto particolare è che se ci spostiamo sempre in questa stanza chiedo scusa ovviamente per la qualità dell'immagine abbiamo un'altra fotografia tagliata però a metà come vedete dietro c'è qualcosa che potrebbe risultarci familiare perché dico che potrebbe risultarci familiare perché è un'immagine invece presente un easter egg presente nei file presente nel gioco e più precisamente a corso commercio se noi a corso commercio andiamo nei negozi quelli in fondo ci sono due stanze dedicate probabilmente a midas e se andiamo nel muro c'è brutus e la skin the engineer appunto nella stessa immagine che vediamo sopra la sua scrivania quindi potrebbe essere qualcosa di collegato tra brutus e mida una storia d'amore non si sa ovviamente ma sicuramente non è un caso che ci sia insomma ragazzi anche per oggi ho le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo in live domani mattina alle 8 su twitch ciao 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 ciao